Dunque vi avevo promesso nel video precedente una piccola anticipazione di mercato, una voce da commentare assieme e dunque da un bosniaco che ha salutato da poco la Serie A che saluterà dopo la Champions League la Juventus, cioè Miralem Pjanic a un bosniaco che stasera è stato avvicinato alla Juve Parliamo di Edin Dzeko che sembra che la Juve abbia contattato per il prossimo anno Allora è chiaro una cosa, la Juve farà un altro colpo a centrocampo Siamo quasi certi tutti di questa cosa Io personalmente mi auguro sempre che sia Pol Pogua perché penso che sia uno dei pochi giocatori che ti farebbe fare l'ennesimo salto di qualità in avanti E' chiaro che se la proprietà ti fa un acquisto come Pol Abile Pobà o comunque un giocatore di valore a centrocampo oltre quelli che già hai devi risparmiare in altri reparti da rinforzare Infatti io non sono così convinto che la Juventus andrà molto sui terzini a meno che non riesca a piazzare De Sciglio a quel punto lì avrebbe lo slot e la liquidità per cercare di prendere un terzino infatti abbiamo parlato di Alaba in altri video eccetera 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 Potrebbe rientrare Pellegrini, insomma ci sono tante soluzioni ma comunque al risparmio giocatori di valore ma andando a risparmiare perché i soldi andranno incentrati sul centrocampo Per questo motivo non è così sicuro l'arrivo di Milik non tanto perché c'è di mezzo una contropartita e il Napoli potrebbe non accettare le contropartite della Juve Allora si è fatta questa ipotesi Dzeko andrebbe via con pochi soldi è un giocatore che non credo sia molto contento di essere rimasto a Roma visto la situazione della Roma di quest'anno la Roma ha un disperato bisogno di vendere e a me sinceramente credo che Dzeko potrebbe essere un'operazione perlomeno affascinante perché è un giocatore alto, pesante, forte fisicamente potrebbe fare da sponda e aprire gli spazi sia a Ronaldo che a Di Bala ha 34 anni, non è un giovanotto ma per un anno, due anni io credo che sia un giocatore che ancora possa dire la sua in determinate partite perché attenzione, in certe partite la formazione della Juve va benissimo così com'è se io sostituisco Bernardeschi con Kuluzeschi a me va benissimo credo che vada bene anche a Sarri l'attacco il problema è che in certe partite serve far tornare Ronaldo un po' dietro e quindi avere un attaccante di peso ma di peso, di peso, di peso e Dzeko ovviamente è uno di questi ripeto, secondo me Milik sarebbe il giocatore preciso, perfetto perché oltre che essere forte fisicamente un po' meno di Dzeko ma comunque forte fisicamente ha anche un'ottima tecnica Dzeko non ha la tecnica di Milik però è vero anche che a poco prezzo credo che possa essere un buon affare anche perché ripeto che siamo convinti tutti ormai che la Juve abbia bisogno sicuramente in diversi settori del campo ma l'attacco abbia bisogno comunque di una punta non tanto per avere un solo modo di giocare ma per diventare un pochettino più come possiamo dire, più imprevedibile è difficilmente bloccabile quindi credo che sia un'alternativa importante avere un giocatore come Dzeko o come Milik in attacco poi ripeto, il discorso secondo me la Juve punterà a comprare un altro centrocampista di valore per i terzini a mio avviso la Juve non toccherà più i terzini perché per il momento se non vende De Sciglio i terzini rimarranno quelli a meno che, ripeto, la Juve venderà De Sciglio a quel punto lì, ripeto, si liberano slot e soldi e a quel punto lì potrebbe esserci sicuramente qualcosa di nuovo ma questo poi è un discorso che si farà più avanti o vendere a Alexandro nel senso è quello se non esce nessuno dei terzini non entra nessuno mentre in attacco secondo me chiunque entra cioè chiunque, anche se non esce nessuno uno di peso entrerà ragazzi, chiudo qua il video ovviamente come sempre fatemi sapere cosa ne pensate e al prossimo video, ciao a tutti grazie